ciao grandissimi, sono indo ragazzi e sono anche oggi a portarvi questo nuovo video nella quale ragazzi vi farò vedere andremo un po' a commentare e a parlare insieme di questo nuovo trailer lasciato da ubisoft Sono scritte ovviamente Syndicate, riguardanti i due fratelli e gemelli, Heave e Jacob Frye Infatti ragazzi di questo trailer sentiamo un po' le parole di Jacob e Heave Intanto Jacob ricordiamo, interpretato da Maurizio Merluzzo Parla un po' diciamo della Londra, dell'ambientazione che è Infatti parla in modo diverso, da una parte Heave sembra parlare al lato buono di Londra, innovazione Tutte le cose positive della capitale londinese Mentre l'altra parte Jacob parla un po' del fattore negativo, della schiavitù Il problema di capitalismo che sfruttano i poveri, tutte queste cose qua Ma alla fine si raggiunge diciamo uno scopo unico Che entrambi combattono assieme, da una parte Heave dice che lotta per la giustizia L'altra parte Jacob dice che lotta per sopravvivere Ma entrambi sono comunque pronti a combattere per la difesa proprio di loro stessi, di loro stessi gemelli Proprio della Londra e proprio della propria famiglia Questo qua diciamo era un trailer così, di presentazione anche di due personaggi Anche per far capire la diversa mentalità però alla fine con l'unico scopo Combattere insieme proprio per la difesa della gente povera E per risanare Londra, libera dei Templari E comunque questo era questo trailer così di presentazione dei fratelli Nella quale abbiamo visto anche un po' Londra, ce l'hanno fatta un po' scoprire Abbiamo scoperto ancora un po' di più sempre l'ambientazione Quindi ragazzi per questo video è tutto Fatemi sapere la vostra opinione sul Sunskill Syndicate E sui due fratelli Jacob e Ivico sotto nei commenti Noi ci vediamo presto con un prossimo video Mi piace, commento e iscrizione Ciao Ciao